La birra è anche la mano del suo birraio e io e Michele abbiamo scelto di tornare nella nostra terra, nella regione che noi amiamo. Quindi in qualche modo questa lega decimo primo al suo territorio nella maniera più concreta di tutto. Poi cerchiamo in alcuni esperimenti come è stato per la nostra birra alla zucca o come è stata per la natalizia dell'anno scorso che era bincotto di fichi, zanzaro e cannella o come sarà con altre birre di mettere degli ingredienti che comunque richiamano il territorio. Poi cerchiamo comunque di rafforzare il nostro territorio con degli eventi e anche dando testimonianza che quello sia possibile. Chiamare il nostro birrificio Castello del Monte proprio per ancorarlo in modo indiscusso il territorio. E successivamente le nostre birre portano i nomi delle donne di Federico e quindi abbiamo Costanza, Ioranda e Bianca Lanza. Partendo da questo abbiamo caratterizzato anche le birre con aspetti tipici del nostro territorio, a partire dall'austerità della birra bionda, della birra chiusura sanbrata, fino alla leggerezza, alla prezza marina che è possibile legarla appunto alla birra bianca. Noi abbiamo una linea di tre etichette che si lega principalmente al territorio salentino, una è una benjam fruit, abbiamo la mala grica che è fatta con confettura di mela cotonia, quindi un frutto tipicamente nostro. Poi abbiamo una coffee stout che è la Santoronzo che è fatta con un caffetto orrefatto a Lecce e poi abbiamo la Santirene che è una triple da 8 gradi ed è fatta con miele di timo, è il miele anche questo locale. Già dalla scelta del nome si capisce che abbiamo voluto creare un prodotto o una serie di prodotti collegati al territorio e per promuovere il territorio. Facendo comunque uno sforzo perché ovviamente la birra non risiede nella nostra cultura, da secoli la nostra terra produce altri prodotti, vino, olio, la birra non appartiene alla nostra cultura. Però abbiamo voluto fare questa scommessa come tanti altri colleghi, non siamo gli unici, ma dando una veste al prodotto e un contenuto di sapori, di contaminazioni in senso positivo ovviamente del territorio, con il territorio che traspaiono anche dai nomi delle birre che abbiamo scelto. Ci leghiamo al territorio tramite l'utilizzo delle nostre materie prime perché all'interno, ad esempio, della Gove, che è la prima birra che abbiamo prodotto, abbiamo utilizzato solo e soltanto malti che sono italiani e per lo più del sud Italia. All'interno della Belgia, che è la nostra seconda birra, abbiamo utilizzato gli agrumi che sono comunque parte del territorio e abbiamo cercato comunque sempre di tenere i nostri prodotti in uno standard di qualità e di beverinità che potesse andare avanti e fare bene, soprattutto in Puglia.